I dialoghi salesiani promossi dagli ex allievi salesiani sono giunti alla seconda edizione. Anche quest'anno l'appuntamento onorese sta focalizzando temi di grande attualità sia per la comunità cristiana che per la stessa società civile. Argomenti trattati da relatori di grande prestigio. Pietro Caggiari, uno dei promotori dei dialoghi salesiani, traccia un primo bilancio dell'edizione 2017. Il bilancio di questa iniziativa promossa dagli ex allievi salesiani di Nuoro è sicuramente positivo. La città ha risposto bene alle sollecitazioni che abbiamo inviato. Si è iniziato con l'incontro con Don Pasqual Chavez, il rettor maggiore merito dei salesiani, sull'attualità del carisma salesiano oggi in relazione alle problematiche giovanili. Si è seguiti con l'incontro tenuto da Michele Corona sulla famiglia, appunto, nelle Sacre Scritture. Si è fatto poi un terzo incontro sulle dipendenze, sulle vecchie e nuove insidie per i giovani, soprattutto limitato al problema delle dipendenze, visto che il relatore principale è stato padre Morittu. Si proseguirà prossimamente il 7 di giugno con un incontro sulla bioetica che sarà curato da due docenti universitari del calibro di Don Gianni Russo, che è un professore molto affermato di bioetica, che è il rettore della fontificia Università Salesiana di Messina. Ci sarà anche il contributo del professor Salvatore Pisu e del dottor Salvatore Puledda qui di Nuoro. Le tematiche in campo sono, come voi sapete, di estrema attualità, per cui vogliamo dare il nostro contributo anche su questi argomenti.